cesari cesari in avanti ottimo filtrante per il gol bellissimo che porta avanti l'atletico peperone l'attaccante non ci riesce per la copertura magistrale di cesari cesari poi rischia su questo passaggio e la perde spazio per vigna vigna con il tiro alto composto simonetti la giocata dentro l'area composto fuori con caparbietà un grande petrucci per cesari che va sul secondo e trova la rete doppio vantaggio peperone assegno ai cesari pallone lungo c'è ancora composto si gira alla grandissima composto e fa filtrare in mezzo c'è cesari pallone proprio per lui deve solo appoggiare dentro il triplo vantaggio peperone petrucci avanza il 41 trova il varco per cesari cesari di nuovo in mezzo cade a terra petrucci non c'è niente c'è invece il gol di laudati già li mette fuori per una partita che dopo dieci minuti ha già ben poco da dire da per quanto riguarda il punteggio cosenza che cerca di riaprire passaggio all'indietro per stancati tiro alto di pirri intercetto di composto composto davanti al portiere lo scarta ci pensa un po' e poi scaraventa il rete anzi direi che appoggia in rete il 5 a 0 trifogli che bel passaggio di trifogli per composto esce bene il portiere ed evita il 6 a 0 il capitano morrone a dare la carica ai suoi ma intercettano quelli del peperone composto serve trifogli trifogli traversa crisari 1 2 con guarino c'è crisari che serve nuovamente guarino parata molto molto buona del portiere ha vinto la tisana ha vinto 4 a 2 meringolo mette un bel cross in mezzo la più bella occasione della partita del cosenza termina con un gol bella l'acrobazia di vommaro finisce così 1 5 la partita tra cosenza e atletico peperone